Eccoci tornati nella nostra piscina con un video pronto, è lì che sta per arrivare di questa estate, forse il video dell'estate, la canzone dell'estate, quindi aspettate un attimo, adesso la lanciamo. Prima però abbiamo tra i nostri tanti amici di Clip Summer, sapete che ogni puntata cambiano, ci sono persone nuove, gente che va, gente che viene, insomma questo è lo spirito di Clip Summer, uno viene qui in piscina a fare quello un po' che vuole, sa fa il bagno, prende il sole, è così, è così che è l'estate. Siamo con Gianni, Gianni un amico particolare perché ha una storia particolare, sei di Napoli però sei qui da un po' di tempo, lavori a Cervia, lavori a Cervia però di dove sei? Di Napoli, però vivi a? A Cervia, a Cervia da un po' di tempo e ti piace la Toscana, sei qui in vacanza? Bellissima, bellissima, meravigliosa, il posto più bello? Adesso ho visto stamattina Borro, bellissimo, Borro insomma, allora qui ci troviamo in zona Laterina, per essere, se chi conosce zona Laterina, siamo in zona Laterina. Detto questo però, visto che sei di Napoli, ok, ci salutiamo con, non lo so, un Yammucena Cucca, no Yammucena Cucca no perché quello vuol dire andiamo a dormire non è bello, con? Pino Daniele, forse è meglio. Ah Pino Daniele va, tu dimmi quando, quando. No, non è Pino Daniele la canzone, grazie Gianni intanto, non è Pino Daniele la canzone che vi lasciamo, vi stiamo per fare ascoltare, sta per arrivare tra le vostre casse nel vostro video, la canzone dell'estate, la canzone che ha spopolato, loro sono qui ragazzi, chi, 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 coloro che hanno reinventato la disco music, che hanno reinventato la musica anni 70-80, e da banca con la Gatlaque.